Da questa parte! State immobili, Ragnetti! Non vi muovete! Per passare in fretta li dovete superare, da una parte e dall'altra, così da poter avanzare! La collezionista di costumi! Trovate quelle tre porte e troverete la collezionista di costumi! Wow! Attenzione, ralutori enormi! Ci stanno cacciando dalla scacchiera! Come facciamo a raggiungere la nostra porta con quest'enormi rane toro davanti? Vito, suoi vestiti! Wow! Attenzione, ralutori enormi! Ci stanno cacciando dalla scacchiera! Come facciamo a raggiungere la nostra porta con quest'enormi rane toro davanti? Sentite un po' cosa succede in questo pezzo!